Le chiesi, voi sì, che ci avete dato una bella lezione di civiltà. Avete scelto il nuovo e scartato il barbaro. Finalmente. Nel triste giorno di un'Italia in lutto per una democrazia ormai disfatta, non tutto è perduto. La gente può rinsavire di fronte all'evidenza anche perché dopo un governo di senato perde la fiducia anche nel suo partito. Lo vota certo e lo voterà chissà fino a quando nelle consultazioni politiche o regionali o provinciali. Ma l'amministrazione del paese è un'altra cosa. L'onestà delle persone conta e conta ancora di più la capacità politica, l'amore per il bene comune. Chissà perché, quasi tutte le amministrazioni dei paesi che funzionano sono nelle mani della sinistra o delle liste civiche. La lega in particolare fa danni ovunque quando assume responsabilità politiche o amministrative. I giochi di potere fanno parte del sistema generale, qui Berlusconi ha fatto scuola. Ma quando si tratta del bene comune del proprio paese allora le cose cambiano. Non sempre, comunque, ci sono anche paesi governati da gente incapace. Fa comodo sapere di avere amministratori corruttibili. Ma i sindaci virtuosi stanno dimostrando che si possono educare i cittadini ad un grande senso civico e soprattutto a privilegiare la qualità della vita che consiste essenzialmente in una decrescita felice. Lecco aveva bisogno di una svolta radicale. Lecco il covo della lega e di comunione e liberazione. Da anni dunque è costretta ad essere schiava di una visuale politica deprimente. La sconfitta di Castelli è bruciata enormemente. Ha rovinato insieme alla sconfitta di Brunetta a Venezia la festa della vittoria della destra. Ma penso che abbia contato anche la figura politicamente insulsa di Roberto Castelli che ha creduto di far presa sul suo nome per incantare gli allocchi. Infatti ha incantato solo gli allocchi perché la maggior parte delle chiesi non gli ha dato retta e ha preferito Virginio Brivio. Vorrei dire due cosette al nuovo sindaco. Caro Virginio, non farti prendere dalla fretta di fare cose cose in vista magari di un prossimo consenso. Ciò che non sopporto è quel pragmatismo tipicamente leghista che finisce prima o poi per fare danni irreparabili al bene comune. Bisogna subito puntare in alto. La gente all'inizio non ti seguirà ma poi capirà. Ci vuole un grande progetto di città. In questo progetto inserire le cose da fare. Se devi fare una scelta, la prima cosa è il mondo del lavoro. Ci sono fabbriche in crisi. Non deludere le attese degli operai. C'è poi il problema dei giovani. Non delegare alle parrocchie ciò che è anche compito dell'ente pubblico. Mantieni una libertà d'azione nei confronti del mondo della religione. E infine, non è però l'ultima cosa in graduatoria. È l'ambiente da rispettare, rivalutare, difendere dalle speculazioni edilizie. Fa parte come l'acqua dei beni universali della Terra. Non si può giocare il compromesso. Ti auguro di restituire alla città di Lecco il suo volto umano. Grazie a tutti.